Il Real Madrid attacca la Francia, e bufera le assurde dichiarazioni su Zidane. Furioso comunicato. Si è alzato un polverone attorno alla figura dell'ex Juventus Zidane, causato dalle dichiarazioni del presidente della federazione francese Le Graet, il quale si è scagliato contro Zizou nel corso di una intervista rilasciata a RMC Sport, Zidane in Brasile. Non mi interessa. Può andare dove vuole. Può andare dove vuole, in un club. In una nazionale. Non seguo quanto lo riguarda. Si ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Descamps. Le reazioni, da Mbappé al Real Madrid ci sono state subito le reazioni nei confronti di quanto pronunciato dalle Graet. A partire dal fuoriclasse Mbappé che sui propri profili social ha sentenziato, Zidane e la Francia. Non manchiamo di rispetto alla leggenda in questo modo. Durissimo il comunicato del Real Madrid che chiede una rettifica alla federazione transpallina, il Real Madrid CF si rammarica delle infelici dichiarazioni rilasciate dal presidente della feder calcio francese. Noelle Graet, su Zinedine Zidane, una delle più grandi leggende dello sport mondiale. Queste parole implicano una mancanza di rispetto nei confronti di una delle figure più ammirate dagli appassionati di calcio di tutto il mondo e il nostro club si aspetta un'immediata rettifica. Zinedine Zidane, campione del mondo e campione europeo difendendo la maglia del suo paese. Tra molti altri titoli, rappresenta i valori dello sport e lo ha dimostrato durante tutta la sua carriera professionale come giocatore e come allenatore. Le dichiarazioni del presidente della feder calcio francese sono inappropriate per chi detiene quella rappresentanza e si squalifica. Come quelle che fa anche sul nostro capitano Karim Benzema, attuale pallone d'oro. Campione della Società delle Nazioni con la Francia nel 2021 e vincitore di 5 Champions League, tra molti altri titoli. Virgola.